mi hanno dato questa radio molto bella che non funziona è una grundig una grundig c6000 molto famosa onde corte medie lunghe fm molto solida robusta però non si accende vedremo all'interno c'era una cassetta e nella cassetta c'era questo stupendo è questo questa preghiera cristiana è unica perché in altre fedi ma dico io ma chi cazzo è che si registra Gesù vuole fare i nomi presso altre religioni anche importanti una cassetta di un'ora piena di Gesù io dico qui che è logico che se noi siamo chiamati a costruire il castello esteriore adesso vi devo spiegare una cosa io questa radio l'ho smontata completamente niente silenzio ho rifatto tutte le saldature come vedete funziona il volume però è fisso che cosa ho fatto per farla funzionare ho fatto semplicemente così vedete porco